barra inversa. Manchester, Regno Unito, il Manchester United sarebbe pronto a tutto pur di aver Victor Osemane nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese ha individuato nel centravanti del Napoli l'uomo giusto per completare il reparto avanzato. Sarebbe proprio il tecnico olandese Tenaga a spingere il club a puntare tutto sull'attuale capocannoniere della Serie A. Osemane, lo United pronto a sborsare 107 milioni secondo il quotidiano inglese. Lo United, che cerca disperatamente una punta che riesca a finalizzare la mole di gioco creata, sarebbe pronta ad un'offerta super, per convincere il Napoli a lasciare la sua stella più luminosa. 107 milioni di sterline.